La mia vita è la mia vita. Non vogliamo, per ingraziamenti. L'unica cosa che conta per noi sono i fatti. I fatti sono l'università, gli esami, insomma, tutto l'impegno che tu metterai nello studio. Ciao. Ma che cosa hai fatto ai capelli? Sembri una commessa del supermercato. Perché, scusi, cos'ha contro le commesse del supermercato? Niente. Però preferirei che mia moglie cercasse i suoi modelli altrove. Dove? Tra le mummie egiziane? Senti, io l'ho fatto soltanto per cambiare un po', va bene? Infatti sei cambiata, bello schifo. Io nella mia vita ho sempre cercato protezione. Come madre, con i suoi fidanzati, con il psicologo all'istituto. E adesso per la prima volta sento io il bisogno di proteggere qualcuno. Io dico che qualcuno sarei io. Io dico che è una labbra. Io dico che mi ha rubato dentro cazzo. Io porto le prove. Mi crederanno. Parole di Gabriele De Contris contro la sua. Ma ci sarà anche la mia di parola. E io la verità la dico a tutti. Mi sono innamorata. Innamorata? Ma è una bellissima notizia. Allora via quest'area da tragedia. Chi è? Lo conosco. Mi sono innamorata di Cetti. Cetti? Mi sono innamorata di Cetti. Grazie.